ciao ragazzi oggi giochiamo quel grande classico che è topini in trappola e che mancava nelle sfide qui su gbr la scorsa stagione l'asbro ha anche rivisto la parte grafica di topini in trappola e ha evidenziato l'aspetto educativo di tutte le reazioni che avvengono quando la trappola scatta per andare a catturare il topino la meccanica del gioco è rimasta quella classica stramatissima da tantissimi anni ma facciamo ragazzi il giro di scatola e vediamo all'interno della confezione cosa c'è partendo al solito dalle istruzioni topini in trappola tipo un po un gioco dell'oca si va in giro per un tabellone si lancia il dado a seconda della casella su cui capitiamo succederanno delle cose poi c'è la spettacolare trappola che ci consentirà di rubare delle fette ai nostri avversari qui sul retro vedete le istruzioni della trappola che tra un attimo passo passo andremo a costruire di tutta la reazione a catena che si può scatenare questo il tabellone di gioco si va in giro al tabellone con l'obiettivo di fare una forma di formaggio conquistare 6 fette di formaggio si gioca in massimo in 4 giocatori 4 topolini che avete visto sulla partenza il primo che fa il giro si becca due fette di formaggio bonus se finisco su casella gialla prendo una fetta di formaggio alla dispensa casella rossa ne devo dare una e ci sono anche delle scorciatoie per andare verso il via più velocemente la trappola casella trappola prendo un giocatore lo metto in zona formaggesca lì gli potrà cadere la trappola se gli cade addosso io gli rubo una fetta casella verde posso rubare una fetta all'avversario casella viola non succede niente ma andiamo alla costruzione e poi alla sfida iniziamo il montaggio con la base numero uno e la inseriamo nell'area dedicata adesso arrivano il lampione e lo stop contrario era ho detto il contrario era lo stop e il lampione qui mettiamo il lampione e lì lo stop scommetto che ti serve anche l'elastico questo sarà il meccanismo azionante chi vuole un calcio vai il calcio va lì sostegno della pista poi ci vuole la pista e il piedistallo quello alto questa sarà la scalinata su cui scenderà la biglia da questo secchio partirà la biglia secchio attaccato base 2 su spazio 2 arriva la grondaia qui scorrerà la biglia che scende dalle scale per arrivare fino alla zona di un nuovo secchio secchio che appenderemo a questa struttura per cui serve la scala e il morsetto morsetto su scala e scala su base chi vuole fare un po di pulizie è arrivato una scopa gigante e un secchio da attaccare alla scopa ora attacchiamo la scala poi c'è la base numero 3 da mettere nello spazio dedicato ecco le tubature che reggeranno la vasca da bagno chi vuol fare un bagnetto il bagnetto lo facciamo bello in alto passerella così la biglia andrà dal secchio fino alla vasca da bagno il trampolino dove salterà il tuffatore e lui è il tuffatore e lo mettiamo in posizione ma direi dall'altra parte sì e dopo la base 3 ci vuole anche la base 4 il lavandino dove si tufferà e il tuffatore salto di prova del tuffatore ottimo tuffo prepariamo la trappola e questa è la trappola che si mette in bilico proprio qua sopra e poi scenderà così per catturare il topino che sarà nella zona formaggiosa olè via è partito la biglia scende e poi arriva sulla grondaia fa il giro qua dietro le scale poi arriva sul secchio che vede proprio su in alto poi finisce sulla vasca da bagno la pallina scende il nuotatore sale e poi finisce nella vasca e poi scende la trappola ragazzi succede di tutto notate che stile il nuotatore ragazzi ha fatto scendere la trappola che ha catturato il nostro topolino e ora andiamo alla sfida io ho preso il topolino verde io quello blu come sempre è il tuo preferito tutti alla partenza via avete la vostra fetta di formaggio iniziale tu ce l'hai io ce l'ho e sulla partenza ci sono due fette che il primo che farà il giro si prenderà vediamo chi fa il numero più alto sarà lui ad iniziare attenzione 1 per nicolò 2 per la mamma 4 inizio io 1 1 finisco sulla casella viola dove non succede niente questa mamma 5 1 2 3 4 5 ho già vinto una fetta dalla dispensa anche io 5 anche tu 5 allora una fetta di formaggio anche per te vado ho fatto 5 anch'io ma dovevo farlo prima 1 2 3 4 5 sempre viola non mi succede mai niente la mamma 5 che succede 1 2 3 4 c e spunti qua ma maicolo 1 violetto violetto sei potuto farmi compagnia vado io 3 dove vado con 3 1 2 3 sulla dispensa un pezzo anche per me così siamo tutti e due pezzi 5 ti aiuto io mamma 1 2 3 4 5 viola per un pello la trappola nicolò 5 1 2 3 4 e 5 hai vinto che è fortuna un'altra fetta sei quella che è nato di tutte tu vado 3 1 2 3 no trappola adesso chi manda in trappola mando la mamma ne sapevo io perché tu sei troppo vicino alla partenza quindi ti metto qua sulla fetta di formaggio la zona formaggesca attenzione via un bel calcio la pallina è partita vediamo dove va non tuffarti non tuffarti bene secchio porta su in alto arriva qua tuffati presa e quindi devo dare una fetta di formaggio una fetta a me grazie e sono tre come nicolò tiriamo su tu mamma ma resterà lì scappo dalla trappola non capire scappi dalla trappola non è che si è proprio scappata no 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 nicolò tu hai fatto 4 1 2 3 4 uh viola niente riposo tocca a me 3 1 2 3 vai dai nichi sei raggiunto siamo i topolini gemelli 2 no la mamma recupera già dalla dispensa l'ultima scusate vai nicolò attenzione 3 1 2 3 un altro da spesa ma che fortuna sei già 4 cosa fate gli accordi formaggeschi voi eh ma degli accordi ragazzi non si può se volete vado in frigo a prendervi un pezzo di grano vado con il lancio sono tre io ero laggiù in fondo 1 2 3 una fetta anche per me sì ma ma due tu sei qua ha un'altra fetta mamma o meno ma dai tengo il vostro passi ma nicolò 5 1 2 3 4 5 in zona formaggesca ma attenzione non è valida vediamo se torno a raggiungere nicolò 6 1 2 3 4 5 6 vai alle 3 1 2 3 4 5 vai alle 3 1 2 3 raggiunto c'è raggiunto eh beh ma ero indietro eh vai nicolò puoi vantaggiarti 2 aiutiamo il rosso 1 e mi ha messo piedi in testa al papà si mi ha messo piedi in testa vai adesso ti risupero 6 1 adesso ti ho messo piedi in testa io 2 3 4 5 6 ritorni indietro no purtroppo si possono andare avanti col tunnel ah ho fatto partire la trappola non ho mai messo risistemo la trappola ho fatto 6 6 1 2 3 4 5 6 un'altra fetta me ne manca solo una la mamma ha già 5 nicolò mandano in trappola 2 1 2 una fetta anche per nicolò anche lui vi manca una me no vediamo se questo dato mi porta bene 6 1 2 3 4 5 6 anch'io siamo tutti a 5 se io faccio 5 se fai 1 2 3 4 e vinto vediamo 3 anzi devi dare una alla dispensa e alla dispensa una mamma no tocca amici vai nicolò potresti vincere 2 che quello ci hai fatto 2 1 e 2 hai vinto è la faccia del topolino che ha vinto hai vinto una peppina vai a completarmi la tua forma hai vinto la tua forma di formaggio ma bravissimo pulito pulito fortunatissimo siete pronti per la rivincita pronti mi manca il mio topolino però dov'è ma sono a fare il bagno è toccato perché ero da fare il bagno per consolarci grazie vediamo chi comincia ragazzi io 2 nicolò 1 papà diamo 2 pareggio con la mamma vediamo 6 2 ma la mamma poi papà poi nicolò 1 la mamma ha dato tutto adesso va piano 1 vai papà vado io 4 come 4 4 è 1 2 3 4 rubo una fetta la mamma ma guarda guarda non sapevo 1 2 6 hai fatto nicolò 4 hai tirato velocissimo 6 è velocissimo vai Ale 5 1 2 3 guardo Dani oh l'hai raggiunto tu carini che siete vai papà 5 5 1 2 3 4 5 si fetta di formaggio 4 dove vai 1 2 3 grande passaggio segreto mitico sei già lassù bravo no adesso va a prendersi due fette vai Ale 1 Ale devi dare una fetta alla dispensa eh non ce l'ho si ipotecano come sembra per il future vado ragazzi 6 1 2 3 4 5 6 niente di che Niki tocca a te vai Nicolò sei già lì 6 1 2 3 4 c'è una fetta anche non solo corro a prendermi le due ma si prende anche la fetta da già 2 vado 1 non sono abituata a starli in fondo è successo trappola beh chi manda in trappola io ho 3 solo perché uno di più mi manda resti in trappola si no cioè per forza ne hai 3 andiamo in zona formaggesca non è valido che ho già preso trappola si no che salta hai fatto un sacco di gradini Ale via sale attenzione la scala da bagno occupatore si ma mia mamma ma che bel tipo bene quindi ti devo una fetta di formaggio che avevo sudato è quella che ti ho dato io eh sudato scappiamo dalla zona trappola che scappiamo fatto 1 ragazzi in retromarcia sempre l'altro ero partito bene poi vai Nicolò 6 1 2 3 4 5 un'altra fetta hai già 3 e 6 a 3 vai Ale 2 2 2 sei raggiunto 1 2 anche tu avanzi vai ho preso il tunnel mi avete superato tutti ero partito bene poi 1 ancora non riesco a uscire dalla zona pericolosa vai Nicolò 4 1 2 un'altra fetta ma come fa adesso arriva sulla partenza e vince vado io intanto eh vai 6 1 2 3 4 5 un'altra fetta anche per te io ne ho una eh non è cristiana e nei due giusto adesso siamo pari la cosa incredibile è che non posso mandare Nicolo in trappola non ci arriverò mai alla trappola andiamo 3 1 2 3 no viola vai Nicchi potrebbe essere il tiro vincente potrebbe essere già il tiro vincente vediamo eh se fa un bro a 5 5 no ce l'ha fatta 4 5 e ne prende anche una in più Ale hai visto ne prende 3 non ho parole guarda può fare la super forma ma Niccolò come fai a vincere come fai bene è così abbiamo perso Ale ma topino in trappola ci piace a te vincitore ti piace questo gioco si toppo 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 sarà che hai vinto due volte sarà che hai vinto si e se questo video ragazzi vi è piaciuto potete mettere un pollicione noi ci vediamo ai prossimi video qui su GBR ciao 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 ciao